Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Cass, io sono Carlotta e oggi siamo in compagnia di Vitale Marco, amministratore delegato di Food Chain S.P.A. Parlaci un po' della tua start-up. Allora, Food Chain S.P.A. è nata nel 2016 dopo 5 anni di ricerca e sviluppo e della collaborazione di due società che sono fondatrici di Food Chain S.P.A. La nostra start-up sostanzialmente vuole tracciare, rintracciare e effettuare controllo e qualità su ogni singolo cibo, quindi applicare un'etichetta intelligente su ogni singolo prodotto affinché il prodotto racconti la propria storia, quindi dal campo alla tavola. Com'è nata l'idea? Beh, ogni giorno si vede in televisione mozzarella blu, olio extravergine di oliva che non è olio extravergine di oliva, quindi abbiamo studiato il settore, abbiamo verificato che la contraffazione agroalimentare, il fenomeno dell'Italia, il fenomeno dell'Italia Sounding grava ogni anno circa 64 miliardi di euro e allora abbiamo cercato di sviluppare una tecnologia che potesse un po' aiutare da questo punto di vista il sistema. La tecnologia è blockchain? Sì, la tecnologia è basata su tecnologia blockchain che è stata completamente rivisitata, abbiamo progettato un hardware, quindi dell'hardware particolare che mantiene in sicurezza tutta l'infrastruttura e quindi siamo in un ambito disruptive. Quanto è importante la community all'interno della vostra startup? Beh, allora, la community è importantissima perché da loro c'è quella spinta verso la prosecuzione del progetto e quindi l'affermare il progetto, quindi senza community non è possibile andare avanti. Io ti ringrazio, grazie del tuo tempo, per oggi è tutto, al prossimo video, ciao! Ciao a tutti!